finalmente in vacanza e oggi si pesca in belly boat libertà totale proviamo e andiamo a pescare a jig con la mia nuova fioretto speciale vediamo se riesco a fare qualche pesce come on la mia nuova fioretto speciale vediamo se riesco a fare qualche pesce come on grazie a tutti 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 grazie a tutti